Wino Wino Poké, Wino Pokémon Wino Wino Poké, gotta catch on board Benvenuti qui in the Pokémon's world Siete pronti o no per un Pokémon match Arminati per nuove sfide tra voi Il mio primo ricordo legato a Pokémon è qualcosa che conservo con grande affetto Era appena esplosa la Pokémon mania in Italia e direi in Occidente E io stavo andando a comprare con mio papà Pokémon Argento Dunque mi trovavo in questo negozio, guardo la vetrina e c'è un Pokémon che non riconosco, Lugia E chiedo a mio papà di comprarmi il gioco E poi sono finito per il resto della settimana con la testa sul Game Boy Color a giocare le avventure di Giotto Mi aspetto che i nuovi Diamante Lucente e Perla Splendente rappresentino il perfetto passaggio di testimone generazionale Diamante e Perla nel 2006 sono stati l'ingresso nel franchise Pokémon per tanti bambini che oggi si sono fatti grandi Hanno giocato tutte le avventure Pokémon successive e ora possono utilizzare questi remake per insegnare i Pokémon Ai più piccoli, magari a un cuginetto, a un fratellino o anche se non sono piccoli a un amico che non ha mai avuto la possibilità di interfacciarsi con Pokémon Mi aspetto un enorme effetto nostalgia che farà rivivere quelle emozioni a tutti i vecchi fan E mi aspetto anche che coinvolga le nuove generazioni che porti veramente tanti altri appassionati ad avvicinarsi al mondo dei Pokémon La competizione per me è molto importante, è un modo che peraltro consiglio per cercare di superare i propri limiti competendo con altri allenatori Fare nuove amicizie, girare il mondo, insomma vivere quindi secondo me all'ennesima potenza quello che è il brand Pokémon Io auguro ai Pokémon di continuare a evolversi cercando di appassionare sempre più persone Come sono state in grado in questi 25 anni di appassionare tantissimi ragazzi e ragazze Auguro ai Pokémon altri 25 anni di successo e già mi preparo per festeggiare il cinquantesimo Pikachu andro sin da Pinlap, il Team Rocket qui vita dura farà Con la Pokéball a ciuffare si può, nuovi Pokémon forti come non mai This is the moment, gotta catch them all